Ma scusa un attimo, io sono arrivato giù E c'è solo lava C'è una strada che va a destra No Sì Ah forse hai ragione Forse Bello a tutti ragazzi, sono Swapogamer E qua in mia compagnia c'è Giba e siamo Mentre si fa un caffè tranquillissimo Siamo ancora su Dark Souls del Remaster E Ne vuole uno anche lei Grazie, si faccia 50 km e me lo porti Grazie, grazie Ma lo voglio che arrivi caldo Va bene, glielo macchio io No, non macchiato caldo Ma è macchiato freddo Ah, ok Vabbè, intanto prima che arrivo lì Va bene, si si raffredda No, fa niente, siamo a posto così Fa niente, a posto così Sì, 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 decisamente Salve Salve Salvino vicini Salve Comunque Siamo tornati dove c'è tanta lava Tantissima lava Moltissima lava direi Giustamente siamo ad agosto Quasi tuttissima lava Quasi tuttissima lava Comunque Vedo Che se non va in vacanza al lago di lava Ad agosto Eh Eh Io no Io per niente proprio Comunque No? No, 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 no Comunque sto vedendo Ma c'è una cosa strana qua Cosa? Aspetti che io No, c'era una cosa a terra qua Una cosa a terra Fuggire Ah, ok, grazie Niente, è un boss uno dei più easy Sì? Sì Sì, sì, sì Anzi Deve fare la cosa che gli viene meglio Scappare Bravissimo Davvero? È il suo boss Oh, oh, oh Hanno fatto Ma perché già lo sapevano Niente, ce n'è uno Apposta per lei Questo qua è il boss fatto per me Su misura Su misura per Swapogamer Venga Ma perché loro non lo sanno Che io ho conoscenze In quel di From Software Bandai Namco Comunque Eh Salve Salve, andiamo Dove? Ma io Meno male hai aumentato la stamina allora Ma perché? La stamina per fuggire Le ha aumentato Non per portare peso Sì Venga, venga Non le faccio fare la strada corta Le faccio fare quella più lunga Davvero? Ma scusa, il boss dov'è? Eh? Dov'è il boss? Ah, eccolo E la madonna Che cos'è quella cosa brutta? No, la madonna non c'entra No, non credo che c'entri la madonna Il signor scarica infinita Ma bisogna colpirlo Visto che è bello? No Ma io scappo allora Ho visto quanto è bello Il signor scarica infinita E ma cosa che fa? Eh, muovono, vede Io c'ho un loot qua Posso prenderlo Scappa! Come scappa? Scappa fortissimo Ma perché si è incazzato? Perché gli ha rubato le cose Eh, non lo sapevo che erano sue Eh, ma lei C'erano le mani in tasca con i bambini mai, eh? Ma no Ma non si arrabbi Sì, così dici Le mani in tasca Le mani in tasca Ma gliele ridò Aspetta che gliele droppo Eh, è troppo tardi Dici? Eh, no Ormai è che metti i carabinieri Ah sì? Io vedo tipo fuoco dietro di me Ovunque Ma scusa Dov'è che scappiamo? Che qua c'è ancora la nebbia Guardi Scappi, lei scappi Ma c'è la nebbia qua Lo so Lei venghi Ah, posso attraversarla? No No Guardi, signore Sì? Eccolo, lui fa il saltino Ah, e... E lo finiamo così? Eh sì Ma perché è morto tutto in uno? Guarda Ah Arrivederci Sono stato fortissimo Sì Un top Direi anche Molto fortissimo anche Vabbè, abbiamo finito la zona Quindi ragazzi Se l'episodio vi è piaciuto Vi è piaciuto Lasciate un like E iscrivetevi al canale Ciao Bella Bella Ah, ma come lava Comunque rieccoci Non è vero che l'episodio era finito Eh, non è vero Non è vero mai Eh, scherzone Eh, gli scherzi quelli belli Ma scusa È lì dove abbiamo ucciso il boss C'era un falò, no? No Ah, ok Bene Quindi ritorno dove stavo andando prima Che era pieno di lava Sì Però io non posso mettere il simbolo di vocazione No, ma adesso ho capito che zona è questa Non me lo fa mettere Ma stiamo scherzando È pieno dei caproni Ma pieno È pieno di demoni toro Che dovrà sconfiggere da solo Non c'è un modo per circonnavigarle Eh, basta che non ci vai No, è grazie a cazzo Allora, là c'è un C'è un tizzone da prendere Là giù in fondo Io, dove è possibile, metto il simbolo che è qua Eh, qua Io non sono lì Non so dove è il tuo qua Allora, lei ci Allora Mi deve dire se vuole uccidere i Demonichi capra Cose Vabbè, uno ma Guglielmo del toro Uno ma visto Vabbè Gli facciamo abbastanza male Facciamo che il tizzone Facciamo che il tizzone lo recupera lei No, uno l'ho ucciso Ecco Se va Si prosegue dietro al demone capra Che appena ucciso Trova me Ma è quello con le due lame, eh Sì, quello è il demone capra Oh, ma gli altri io li lascio per i cazzi loro Eh, se va a sinistra del demone capra E' il tuo simbolo Aspetti, non faccia cose Aspetti Io ti sto in Il simbolo No, no, non mi invochi Non mi invochi Perché se no Ho tre fiasche in croce Ormai ho fatto Non è vero Sì No 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 Lavoro due fiasche Va bene Eh, va bene Due fiasche Is make a one Eh, due fiasche Veramente Salve Pronto Salve Salvino Salve Andiamo Eh, credo che mi abbiano invaso Perché La nebbia non me la faceva togliere L'avrà invaso a Kirk Di solito qua invade Kirk Eh, ma io non ho visto Kirk Eh No, c'è un signore là dietro L'ho visto Sa che siamo morti Eh, venga di qua Mi segua Oh, che mi segua Venga Cazzo dorissimo Eh, lo sapevo Io ero figlio di puttana Truca Ah, ah Mi ha preso lo stesso Ma non è possibile Che si fa invadere sempre Non è colpa mia Ma io non gli do Però ho la soddisfazione Di uccidermi No, non dimmi che si butta Sì Ma perché Mi butto anche vicino Dove posso prendere le anime Signori Miledi Ricorderete questo giorno Come il giorno In cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparo Addio To Figlio di puttana Eh, ma Ha capito Le anime Le prende allo stesso Fa niente Non mi importa Ma non ha la soddisfazione Di avermi ucciso A quanto codardo Buongiorno 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 Andiamo Possiamo andiamo? Andiamo a fare I big culi Allora Tecnicamente Adesso Non avrebbe Non Non dovrebbe esserci Nessuno Sotto Sotto c'è una Eh, la madonna Sotto? C'è una cosa immensa Ho visto C'è un faleo Anche da sotto Un po' ciccato Ma tu li one shoti? Li one shoti davvero? Sì Ma sei potentissimo E' rapidissimo No No? No Beh, un po' rapido Lo sono, dai No, rapidissimo Sì, però Però cavoli Ho un loot Anima di un cavaliere valoroso Bene Morto malissimo Tra l'altro Ma qua sotto Da qualche parte Prima avevo visto Una cosa Quello E come si fa a uccidere? Così Così Ah, ma era un merdone Ma scusa un attimo Il tipo lì Usciva da qua Sì Ok Ricordiamoci Che c'era una bestia enorme Che usciva da qua E' morta E' scomparsa E' morta E' morta E' morta E' morta E' morta Ci sono Ci sono Dei muratori efficienti Su Dark Souls 1 Vado Accenda il falò Dov'è che va? Accenda il falò Ma lì c'è un vermone immenso Ma accenda il falò Non me lo fa accendere Cosa accendo? Adesso me lo fa accendere No Vado Tocca segno di vocazione Sì ti sto toccando Mi tocchi tutto Mi tocchi Però mi tocchi E la sto toccando Non mi viene fuori niente Eh no Adesso mi ha toccato Ah hai visto Ma quanto ci mette? Chi? Rieccoci riuniti Oh sì Come si è piegato bene Andiamo Andiamo In maniera prepotente E arrogante Comunque Glielo ho detto Attaccato alla parete qua C'è una cosa brutta Quella miseria Andiamo Andiamo Ah ma lei A voi vi ricordo Dov'è che li ho già visti? Ah lui mi ha rishotto anch'io Quindi non deve fare tanto lo sbuffone Ah vada vada Ah salve Le faccio shottare il vermone anche No Io scappo Vai vada a shottare il vermone Ma mi uccide No mica Vada Vada Vavi Mi ha mangiato Come lo sta shottando bene il vermone Come li shotta lei vermoni Ma io non sono un canolicchio Cosa fa? Guarda te sto stronzo Mi sono nascosto Guardi cosa ha grato Sì Vabbè io vado Vado al vermone vado Mi faccio vedere come fa Come fa il vermone Quanto li sta rollando Non lo uccide a rollate Non l'ha shottato mai Eh lui mi ha shottato Niente di shottato Però l'ha ucciso Eh non posso farci niente Eh no È un infame sto verme Infamissimo Lascia bipenne del demone Oh Non ce l'avevo già Può darci Venga 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 C'è uno che ci osserva C'è uno che ci osserva Da là in alto Chi? Eh non lo so Un demone capra Carca la puttana Un demone capra pal Sì la maestra di matematica Dei simpson Proprio lei Sì Corri forte No no Stunnati subito Arrivederci Escezione che questo Mi ha fatto cadere A me Ok Ah ho capito Dove sei caduto Quanti vermoni ci sono Non l'ho preso Ah bastarda Sono stato coraggioso Sì ma te l'aveva rotto qualcosa Però te lo dico No Sì non te l'aveva Arma rotta Roba del genere No Eh la madoi Ma siamo pazzi No Ah tu risciotti davvero anche questi Sì Arca l'hanno preso Com'è possibile Ah che la puttana Sì Ma poi da dove cazzo scendono Oh le Cos'è pezzo di titanite rossa Yeah Attenzione nemico Tizione del fuoco gigante Uh Che cosa bella che abbiamo trovato Ok Adesso credo che noi dovremmo andare Al boss Da quello che ho capito Che mi spiegavi Sì A uno dei boss Come uno dei boss Uno dei boss Quanti sono Eh Gna gna Cosa vuol dire gna 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 Non posso fare spoiler Andiamo Che cazzo sta andando Eh non lo so Me lo dica lei Ma uno di uno è sta zanna L'abbiamo già battuto Sì Venga 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 dove È appena morto un demone e capra Venga Eeeh Non so dove sei andato Qui Dietro di lei Perché è dietro Dove va E che ne so Io non l'ho visto sparire Qua c'era un demone e capra Eeeh Accidentalmente morto Accidentalmente poi Ok L'anima di un guerriero coraggioso E lì a sinistra Non c'è niente Giusto No Allora potremmo andare anche qua A fare cose Oppure andiamo lì Eeeh Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ma è ancora lui Sì Ma perché quante volte c'è Non è mica il tuo gioco Sezione Una pulata Sezione Dove è finito il boss Mi è sparito il boss Ma come È riapparso È riapparso Mi era sparito il boss E non lo so perché Oh è moruto Beh questo è andato giù Arrivederci Mi lascio così Eeeh Non posso fare altrimenti No Mi abbandona Sono come Dio Perché c'è fatto un momento solo Perché non poteva fare altrimenti Perché non poteva fare altrimenti Eh Eh porco cane Hai ragione Porco cane Ma quindi io dov'è che devo proseguire ora Niente Eeeh Facciala chiusa Facciala chiusa Due boss fight in un video Dai Perché due Come Come perché due Scarica infinita È questo Ah è vero Va bene che scarica infinita È una merda Però Addirittura non ricordarselo Ok ragazzi Allora Come nello scorso video Ho dovuto cercare qualcuno Per fare l'altro Eeeh Ho trovato questi bellissimi ciccioni Che sputtano fuoco Ma Stavolta non sono come le Come le vongole giganti Non mi stupreranno Eeeh Tra altre cose Ringrazio Giba Grazie mille per avermi dato una mano In questo video Per un'altra In un altro episodio Cioè nel senso Tutte queste volte qua che mi stiamo dando una mano Prima o poi ti dovrò offrire Offrire una pizza kebab Grazie Eeeh L'episodio Stasera magari Non credo Magari No In settimana In settimana volentieri Dunque Eeeh Ragazzi L'episodio finisce qua Se vi è piaciuto lasciate un bel like E iscrivetevi a entrambi i canali E noi ci vediamo Alla prossima Bella Ciao 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 Ciao